Dopo quella del 7 agosto, il dì in cui la Serie A2 è diventata realtà, la seconda data da cerchio rosso per la polisportiva è stata martedì 15 settembre. È iniziata la preparazione per un campionato che per la prima volta vedrà anche trasferte non soltanto in Puglia ma anche nella parte sud dello stivale. Tutti agli ordini di Michele Pannarale, quindi di Rossana Pinto e dello staff per arrivare preparati all'esordio ufficiale. Lo start, infatti, stando al calendario diramato dalla federazione, sarà domenica 18 ottobre a domicilio contro il Grottaie, a cui farà seguito la trasferta di Napoli la domenica successiva. Significa dunque che fin dall'inizio non ci sarà affatto modo per scherzare. E non si scherzerà neanche mercoledì, quando è previsto il Memorial Michele Perrini, in ricordo del 23enne morto sul lavoro due mesi fa e fratello di Domenico, direttore generale a Neroverde. La serata avrà due momenti, verrà scoperta una targa commemorativa per il giovane e poi amichevole contro l'Altamura a seguire. Tutto rigorosamente in diretta streaming su Radio Doppio Zero.